Ci sarà ancora ad attendere sette giorni dopo la seconda udienza del processo contro 13 dirigenti Enel e i legali rappresentanti delle ditte Nubile e Cannone che è proseguito quest'oggi come la programmazione del Tribunale con il dibattito sulle costituzioni di parte civile e la discussione sull'ammissibilità di tutte le istanze presentate. Il giudice monocratico Francesco Cacucci comunicherà le richieste ammesse tra le oltre 70 presentate prima del processo nell'audienza del prossimo 14 gennaio. Una udienza, quella di oggi, nella quale il pubblico ministero Giuseppe De Nozza non ha avuto molto da dire sulle costituzioni presentate dagli agricoltori proprietari dei terreni intorno agli impianti dell'Enel ormai inutilizzabili e pericolosi a causa delle polveri di carbone disperse dal nastro trasportatore della centrale Federico II di Cerano. Ad essere in forza invece, secondo il PM, sarebbe la costituzione di parte civile del Comune di Brindisi che, a quanto contestato, avrebbe tramite il suo legale Daniela Faggiano avanzato la richiesta di procedimento su danno ambientale. Reato però che non sarebbe presente, almeno in questo processo, nelle responsabilità mosse agli accusati. È stato lo stesso Avvocato Faggiano poi a ribadire che, quanto inserito nella Costituzione del Comune, avesse tutte le carte in regola per essere ammesso nella sua forma. La parola è poi passata alle difese che hanno richiesto, oltre all'esclusione delle amministrazioni comunali e provinciali, tra le quali, oltre Brindisi, Torcherolo, San Pietro Varnodico e il Comune dell'Accese di Trepuzzi, delle associazioni ambientaliste, presenti con alcuni manifestanti e cartelloni di protesta fuori dal Tribunale, e dei numerosi agricoltori e proprietari di fondi nelle vicinanze della centrale Edel, che hanno però presentato istanza solo in un secondo momento. Dopo aver ascoltato tutte le parti, sarà ora il giudice a decidere nei prossimi giorni, comunicando lunedì 14 gennaio, quali Costituzioni accettare e quali escludere con relative motivazioni. Grazie a tutti.